ciao ragazzi e bentornati sul canale mac gabry collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di costruisci il modellino del titanic la nave la leggenda in questo video tutorial andremo a fare l'unboxing del fascicolo numero 99 e 100 ragazzi il 100 eccolo qui a dove andremo ad assemblare la sezione 6 della carena di destra e guardate abbiamo l'uscita per la seconda elica della motrice quindi immaginate la panoramica che faremo al termine questo video tutorial del titanic sarà spettacolare e poi andremo ovviamente ad assemblare la sezione 6 dello scafo di destra ok siete pronti per questo nuovo tutorial allora iniziamo vai titanic e prima di iniziare l'unboxing mi raccomando lasciate un super like a modellino del titanic al nostro video e poi cliccate qui in basso per iscrivervi al canale mac gabry collections per seguire insieme a noi tutta la costruzione di questo spettacolare modellino vi lascio qui in alto a destra il link alla playlist dove potete consultare tutti i tutorial precedenti andate a vedere sul canale anche gli ultimi video che abbiamo pubblicato dei nuovi modellini che stiamo assemblando interamente sul canale stiamo parlando del terminator t800 dove andiamo a assemblare la parte superiore del braccio destro e poi la lancia delta hf integrale martini racing dove andiamo ad assemblare la calandra completa di griglia e dello scudo della lancia veramente fichi mi raccomando andate a rivedere detto questo iniziamo un unboxing e anche oggi è giorno buono per fare modellismo iniziamo andiamo quindi a farci una panoramica del modellino del titanic cioè ragazzi guardate che cos'è questa nave veramente mastodontica modellino gigantesco finalmente diciamo al fascicolo 100 riusciamo a farci una bella idea di questo modellino che è veramente bello 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 allora questo è quello che abbiamo assemblato nel tutorial precedente ossia la parte sinistra della carena e dello scafo e come potete vedere la parte della carena ha praticamente l'uscita dell'elica che viene da una delle due motrici della sala macchine bene questo tutorial andremo a completare tutta questa parte destra e quindi andremo a vedere anche come si presenta la seconda elica in uscita dallo scafo cioè sarà veramente spettacolare rivedere poi il modellino a termine di questo video tutorial guardate facciamoci una panoramica per apprezzare la grandezza e la maestrosità del titanic ok ragazzi a questo punto direi che possiamo iniziare con il nuovo unboxing vai procediamo andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 99 del titanic opera distribuita in eticola dalla scelte per collezionisti e per modellisti allora all'interno del fascicolo troviamo il 900 e in particolare l'affondamento del lusitania affondato come sapete da un siluro tedesco durante la seconda guerra mondiale ecco qui tutta la storia con l'immagine della della falla creata sullo scafo allora amici ecco qui le fasi di assemblaggio la sezione 6 della carena di destra che a breve andiamo ad analizzare assemblaggio praticamente semplicissimo identico a quello che abbiamo fatto sulla parte sinistra del modellino e così è come si presenta la prima parte proseguiamo quindi con il fascicolo numero 100 e allora innanzitutto andiamo a vedere cosa troviamo diciamo in uscita con il prossimo numero molto interessante ragazzi il supporto del modello è un cavo elettrico quindi cominciamo a metterlo in esposizione nuovi supporti era ora perché praticamente non ci abbiamo nulla ancora si continua poi con nella seconda parte dell'affondamento del lusitania eccolo qui quindi tutta la storia da leggere veramente interessantissimo andiamo quindi a vedere le fasi di assemblaggio e appunto andiamo a completare la sezione 6 dello scafo sul lato destro eccolo qui ragazzi non vedo l'ora ecco il risultato finale a questo punto non ci resta altro che iniziare con le fasi di assemblaggio vai e come prima cosa andiamo ad analizzare i componenti che abbiamo ricevuto eccola qui la sezione 6 della carena sul lato destro del nostro modellino come al solito verniciatura impeccabile pezzo realizzato molto bene come vi dicevo prima questa è l'altra parte sulla quale troviamo l'uscita dell'elica della seconda motrice proveniente dalla cabina del nostro titanic eccolo qui e poi vediamo anche la sesta parte della sezione dello scafo la parte quella che troviamo in alto colore nero ormai conosciamo benissimo questi pezzi controlliamo soltanto che la verniciatura sia perfetta e priva di graffi ok iniziamo con l'assemblaggio procediamo quindi con l'assemblaggio della sezione 6 della carena la orientiamo in questo modo con l'uscita dell'elica sulla destra e facciamo coincidere questi due fori con i due perni della sezione adiacente quindi vediamo se riusciamo a incastrarli ecco qui ragazzi è un procedimento molto semplice adesso andiamo a fissare il tutto con due viti ed ecco fatto e così è come si presenta lo scafo dopo aver montato questa prima sezione ok adesso procediamo con la sezione superiore dello scafo recuperiamo quindi la sezione 6 dello scafo la orientiamo in questo modo è praticamente la incliniamo leggermente per far coincidere questi due fori con questi due perni della sezione adiacente esattamente in questo modo quindi andiamo a inserirlo in contemporanea andiamo inserire anche quelli sotto vediamo se riusciamo a inserire ragazzi sembra un po' diciamo complicato questa volta ecco qui dobbiamo fare un una bella forzatura per poterlo fare entrare ecco fatto adesso andiamo a fissare il tutto con 5 viti lm procediamo e ecco fatto ed ecco qui lo scafo del titanic al termine di questa fase di assemblaggio ormai ci siamo amici guardate quanto è lungo allora io presumo che manca soltanto l'ultima sezione che più o meno sarà lunga così infatti venendolo dall'alto vedete come comincia a stringersi lo scafo quindi più o meno la punta dovrebbe trovarsi in questa zona quindi la lunghezza delle sezioni più o meno sono queste quindi secondo me dovrebbe mancare soltanto un'ultima sezione completa per lato appunto per completare tutto lo scafo ovviamente le sezioni della chiglia eccole qui ragazzi che anche qui presumo ne manchino due questa e poi l'altra qui a seguire allora ragazzi cosa dire è veramente fantastico adesso ci andiamo a posizionare la sala macchine diciamo all'interno andiamo a far passare due eliche delle motrici attraverso i fori delle carene e ci facciamo una bella panoramica di questo mastodontico modellino procediamo ed eccolo qui il modellino del titanic completo anche della sala macchine ragazzi guardate che spettacolo l'interno del titanic e le due eliche che escono dalla parte esterna delle due carene guardate che bello l'effetto ragazzi non vedo l'ora di completare lo scafo perché sarà veramente una figata pazzesca eccolo qui in tutta la sua grandezza è veramente enorme cioè un modellino così presumo che sia il doppio in altezza della bismarck cioè veramente gigantesco ragazzi allora cosa dirvi il video tutorial finisce qui spero vi sia stato utile mi raccomando lasciate un bel like al modellino del titanic e al nostro video e poi cliccate qui in basso per iscrivervi al canale mac gabry collections per seguire tutta la costruzione del titanic abbonatevi anche al canale per usufruire delle mac moji per commentare i vari video sono veramente simpatiche mi raccomando ragazzi io vi lascio con questa panoramica e vi do appuntamento al prossimo video ciao